buonasera buonasera a tutti spero che mi vediate e mi sentiate soprattutto aspetto un po di feedback da qualcuno che mando ecco vediamo pronto c'è qualcuno sì penso di sì eccoci allora per la nostra ci siamo sentite vedete bene buonasera buonasera a tutti che bello oggi avete rinunciato a stare fuori all'aria aperta con questo bel caldo per stare insieme a me questo mi fa molto piacere e mi onora oggi parliamo di un argomento a me particolarmente caro a me proprio mi mi entusiasma l'ho scelto proprio col cuore chi mi conosce bene o chi ha letto qualche mio libro soprattutto il libro della sirena sa che la poesia mi ha salvato la vita e quindi oggi faccio un omaggio alla poesia alla poesia femminile che ovviamente è la poesia negletta è quella che l'umanità non ha mai conosciuto bene abbiamo alcuni nomi di qualche antica poetessa che però sono un po come dire rimasti nel dimenticatoio la prima è una sacerdotessa sumera pensate un po nel 1500 a.c. quindi veramente antichissima e questa sacerdotessima che si chiamava eudanna che è un nome probabilmente non so se non sappiamo se si pronunciasse così ha scritto dei versi sacri questo sta a testimoniare come le antiche sacerdotesse le antiche donne sapienti fossero tutte al contatto col sacro anzi fossero loro le depositarie di tutto le cose sacre taglierà dicevano i greci no le cose sacre poi dobbiamo andare in in grecia va bene la grecia classica tutti conoscono saffo anche se nessuno sa nessun suo verso nessuno conosce un verso di saffo a meno che proprio sia uno studioso saffo di saffo è rimasto solo l'inno ad afrodite diciamo che è abbastanza completo ma poi non abbiamo altre risultanze di saffo però la sua fama ha veramente varcato i secoli e millenni forse per questa attenzione anche buonasera silvia buonasera anelli ciao anna ciao 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 lorenzo questa questa capacità di saffo di parlare dell'amore che poi è stato definito lesbico no l'amore a lesbo appunto perché lei aveva aperto una scuola per fanciulle proprio nell'isola di lesbo e a queste fanciulle lei impartiva molte lezioni su come comportarsi su come vivere una vita matrimoniale soddisfacente eccetera eccetera non voglio parlare però di saffo perché perché questo titolo è la poesia femminile perduta cioè quella di cui non si parla mai quelle che nessuno conosce ora vedremo che le poetesse a parte l'ultimo secolo il novecento questo proprio è appena finito prima del novecento le poetesse sono rarissime sono delle specie di lucine che si sono accese una ogni tanto dopo cinquecento anni l'una dall'altra con delle con dei tempi lunghissimi di oblio perché perché la scrittura femminile non è mai stata conosciuta si conoscevano i poeti maschi quelli che cantavano di guerre di battaglie ma le donne erano relegate all'ignoranza relegate a stare in casa e quindi purtroppo c'era poca pochissima attenzione a questi scritti eppure qualcuno è rimasto qualcuno di molto valido sappiamo dalle storie raccontate dagli uomini cioè questi questi storici hanno raccontato per esempio di corinna che aveva vinto in una un agone poetico addirittura pindaro quindi questo nome pur non avendo nessun verso di questa poetessa ma evidentemente era talmente brava da vincere proprio il poeta laureato pindano no poi abbiamo qualche verso di una greca che io adesso vi leggerò si chiamava erinna nel quarto secolo che scrive della compagna baucide che è morta subito dopo le nozze e dice così o baucin felice al ricordo gemendo io piango nel mio cuore ancora hanno calore queste cose della fanciullezza e quelle che di gioia non furono altro che cenere reverse le bambole sui letti iniziali stanno e presso il mattino cantando non più reca la madre ora questa immagine delle bambole buttate sul letto ci fa capire quanto questa ragazza fosse giovane quasi una bambina e che appunto morta subito dopo le nozze la sua amica del cuore sta piangendo quindi vediamo come le diciamo i motivi della poesia femminile siano sempre molto intimi molto legati alla vita alla vita familiare agli affetti proprio alle dolcezze del nido del nido lasciato aumento il volume vediamo se riesco avete fatto bene a dirmelo vediamo un pochino se riesco ad aumentare il volume allora vediamo un po' in uscita vediamo se così sentite meglio mi date una conferma se sentite meglio vediamo un po' vediamo un po' paola paola che diceva che non sentiva bene mi dai conferma paola se senti ok io mi auguro che voi sentiate a limite aumento anche un po' la voce così vediamo se va meglio allora un'altra delle di queste poetesse che sono rimaste storiche diciamo solo e perché hanno gareggiato con dei maschi ricordiamo sul piccia siamo già nella Roma a Roma e i suoi versi furono attribuiti niente po' di meno che a Tibullo e lei rivendicò che quei versi non furono scritti da Tibullo ma erano stati scritti da lei quindi ci sono anche dei casi di plagio diciamo di persone che si facevano belli con i versi con i versi delle povere poetesse ahimè sempre vituperate sempre dimenticate sempre mai mai guardate mai sentite il volume è basso non so come fare ad alzare il volume se non facendo così adesso datemi un attimo che riesco vediamo se riesco ad aumentare vediamo questo vediamo questo volume di ingresso volume di uscita adesso l'ho messo al massimo vediamo un po' ditemi se va meglio ditemi se va meglio ok si sente basso questa cosa è strana io non riesco a capirla perché di solito è sempre andato bene aumenterò la voce vediamo se con la voce così mi sentite allora vi raccontavo di sul piccia sul piccia non abbiamo praticamente dei versi suoi perché evidentemente sono scellati dalla storia però sappiamo questo episodio che appunto i suoi versi furono attribuiti a Tibullo poi lei protestò e quindi le furono attribuiti e siamo nell'impero romano siamo durante l'epoca romana dobbiamo fare un altro salto di secoli e secoli e secoli vi faccio mi soffermo su questo fatto che passano dei secoli prima che qualche donna la voce di qualche donna di nuovo appaia nella storia della poesia e abbiamo diciamo nel 1200 le prime nel XIII secolo le prime cantori le prime trovadori le prime le prime poete che dalla Sicilia prendono voce la prima è Nina siciliana vi leggo due versi suoi tapina me che amava uno sperviero amava al tanto che io me ne moria e lo richiamo ben me era maniero eunque troppo pascher non do via questo è l'amore malato per un uomo che non la voleva e quindi questa la fa la fa scrivere questi versi così intensi un'altra che divenne famosa nonostante che il nome non sia aggiunto fino a noi ma solo uno pseudonimo che lei usava compiuta donzella è molto brava questa questa poetessa che riesce a scrivere dei versi quasi elegiaci direi e canta soprattutto le sue nozze forzate il padre la voleva costringere a delle nozze che lei non voleva e quindi scrive questi versi strazianti diciamo cantando l'età perduta l'età dove la stagione che il mondo foglia e fiora a crescer gioia tutti i fini amanti vanno insieme agli giardini allora che gli oscelletti fan dolci canti sentite com'è armoniosa com'è quasi una canzone c'è della musica dentro e questo questo connubio tra poesia e musica è molto importante perché la poesia in realtà nasce come poema nasce come canto anche la divina commedia per esempio molto ritmata tutti i versi in qualche modo a parte appunto questi ultimi del novecento che romperanno questo questo sistema di di canto di canto poetico però effettivamente la poesia deve avere un suo ritmo un suo modo di espressione quasi cantilenante ora qua siamo nel 1200 circa a Firenze con compiuta donzella dobbiamo fare un salto di tantissimi secoli per arrivare al rinascimento italiano dove troviamo qualche donna famosa ma famosa sempre perché era in contatto con famosi artisti sto parlando di Vittoria Colonna Vittoria Colonna è rimasta famosa soprattutto per essere stata operatrice di Michelangelo Michelangelo Buonarroti il quale era platonicamente invaghito di lei a tal punto che Michelangelo stesso scrisse delle cose incredibili anche se stiamo parlando di poesia femminile però le parole di Michelangelo su Vittoria Colonna ve le voglio far sentire Michelangelo scrive un uomo in una donna anzi un Dio per la sua bocca parla un Dio per ascoltarla son fatto tal che mai più sarò mio ve le spiego un attimo un uomo in una donna anzi non è un uomo in una donna ma addirittura un Dio in una donna ed è il Dio che per la sua bocca parla per cui io per ascoltarla sono diventato tale che non sono neanche più me stesso pensate il grande Michelangelo che dice di Vittoria queste parole di Vittoria ci sono rimasti alcuni poemi ma piuttosto difficili in un italiano un po' ostico per le nostre orecchie di oggi per cui evito di cantarvele però se volete diciamo approfondire poi trovate sicuramente domanda perché Saffo è riuscita ad emergere un minimo e le altre no? bella domanda Saffo è riuscita ad emergere perché ha scritto in modo erotico e non c'è niente da fare l'eros è attraente e siccome Saffo era una poetessa senza veli e descriveva diciamo gli amplessi amorosi con dovizie di particolari io credo che sia stato questo il fatto che Saffo sia rimasta il nome suo almeno sia rimasto noto altre donne che hanno scritto invece del cuore dei sentimenti più elevati e di bellezze interiori si è si è tenuto molto meno il loro nome è stato è stato completamente dimenticato anche la famosa compiuta donzella in realtà non era il suo nome era uno pseudonimo per cui per cui chiaramente manchiamo di nomi ma il femminile ha sempre mancato di nomi anzi gli sono stati tolti il nome perché perché il nome è un potere io mi diciamo mi presento con un nome e se io ho il mio nome il nome onorato l'onore del nome c'è stato tutta una lunga sequenza di atti giuridici anche su questo il nome è importante senza nome l'individuo perde perde consistenza e alle donne ovviamente è stato tolto il nome perché anche i nostri nomi o cognomi sono sempre di parte paterna e quindi sono il nome di nostro padre il nome di nostro marito ma mai il nostro nome a noi è stato tolto da questo sistema patriarcale da molti secoli lo sapete chi ha letto i miei libri io me ne sono occupata molto di questa cosa e perché il nome è importante il patronimico il patronimico perché attraverso il patronimico si eredita il patrimonio il pater quindi è tutta una linea di soldi e quindi una linea di potere di terre di terreni di proprietà quindi è chiaro che portare il nome di famiglia ed è solo il maschio che lo porta rende questo maschio importantissimo ecco perché le donne perdendo il proprio nome essendo stato cancellato il nome ecco che perdono anche importanza le persone le anime che invece pur sono state molto ricche molto ricche ci sono state delle ciao Adriana ciao ecco sì allora così metto il microfono vediamo così sentite meglio ecco allora diciamo dobbiamo arrivare al 1500 circa per avere questi nomi faccio anche il nome di Gaspera Stampa che comunque era una cortigiana vedremo anche Veronica Franco allora perché le cortigiane ovvero le etere sono le uniche che in realtà possono scrivere e di questa scrittura rimane memoria perché erano le donne più colte ed erano diciamo al servizio dei grandi dei nobili dei re e quindi è chiaro che il loro apporto alla cultura era maggiore Veronica Franco addirittura salvò Venezia non so se qualcuno di voi ha visto anche un bellissimo film su cui Veronica Franco è la protagonista e io vi invito comunque a vederlo adesso non ricordo un attimo vado a vedere come si chiamava questo film ma è un film estremamente famoso che si chiamava la aspettate Dangerous Beauty ecco bellezza pericolosa poi in italiano è stato in realtà tradotto in un altro modo ovviamente e si è stato tradotto con padrona del suo destino comunque è un film piuttosto interessante fatto anche bene con i costumi dell'epoca e racconta proprio la storia di Veronica Franco una storia interessantissima una donna intelligentissima che è riuscita nonostante tutti gli ostacoli a diventare famosa a essere convocata presso i potenti addirittura il re di Francia la onorò con la sua presenza e quindi insomma sono donne etere le famose etere che erano le uniche che potevano avere accesso alla conoscenza e alle lettere quindi quindi è qui che troviamo qualche nome comunque siamo sempre veramente due o tre nomi giusto proprio per il minimo sindacale diciamo dobbiamo dobbiamo ancora fare un ulteriore salto quantico temporale per arrivare all'arcadia al settecento dove alcune donne ma sempre più cortigiane che donne libere riescono a scrivere ma sono sempre versi abbastanza accademici abbastanza diciamo ripetitivi senza nessuna genialità particolare dobbiamo arrivare all'ottocento ecco l'ottocento è un secolo che diciamo in qualche modo pur essendo così ancora restrittivo ricordiamo anche i vestiti delle donne con le stecche di balena con quei vitini che dovevano stringere fino allo svenimento e queste povere ragazze dovevano sottoporsi a delle vere torture solo per il vestito figurarsi per il resto pur tuttavia nell'ottocento abbiamo delle voci davvero meravigliose io ve ne ve ne leggo una per tutti la mia adorata Emily Dickinson molti di voi la conosceranno perché è una stranissima storia una storia umana molto particolare Emily Dickinson è americana ma praticamente vive in una specie di casa estremamente puritana con pochissimi contatti all'esterno alla fine lei sceglierà di vestirsi di bianco e di rimanere sempre chiusa nella sua stanza le sorelle le portavano il prasti lei usciva pochissimo ma aveva dei carteggi intensissimi con persone soprattutto con uomini con i quali lei si dilettava proprio a scrivere di poesia le poesie di Emily Dickinson sono poesie eterne che travalicano i tempi non sono legati a nulla se non alla pura poesia la poesia è il linguaggio dell'anima fino a che parliamo in prosa vuol dire che noi filtriamo attraverso la mente e quindi mettiamo soggetto verbo predicato complemento cioè facciamo una una frase di senso compiuto attraverso l'intelletto quando invece la poesia sgorga sgorgano parole dell'anima e la nostra anima non può altro che esprimersi in poesia io personalmente perché mi conosco per chi ha letto il libro io sirena fuor d'acqua sa che la poesia mi ha salvato la vita quindi oggi sono particolarmente commossa nel fare questa diretta perché proprio mi muove dentro e Emily Dickinson tra tante voci che ho scelto è quella che mi muove veramente di più e vi faccio vi leggo solo una piccola parte di Emily Dickinson perché ovviamente sarebbe il caso di leggere tutti i suoi poemi perché sono davvero meravigliosi comunque ve ne leggo alcune spero di essere abbastanza brava a leggere non sono un'attrice però spero di dare una buona intonazione se potrò impedire a un cuore di spezzarsi non avrò vissuto in vano se potrò alleviare il dolore di una vita o lenire una pena o aiutare un pettirosso caduto a rientrare nel suo nido non avrò vissuto in vano questa è questa è poesia ragazzi io non so cos'altro dirvi io mi commuovo leggo un altro un altro brano sempre di Emily Dickinson ho preso un sorso di vita vi dirò quanto l'ho pagato precisamente un'esistenza è il prezzo di mercato dicono ma hanno pesato granello per granello bilanciata fibra per fibra poi mandato il valore del mio essere solo un grammo di cielo vabbè l'ultima di Emily Dickinson no penultima perché ne ho scelte un po' scusate siccome questa è una diretta che scelgo io vi faccio dono delle poesie che a me piacciono questo è sempre Emily che parla e dice chi è amato non conosce morte perché l'amore è immortalità o meglio è sostanza divina chi ama non conosce morte perché l'amore fa rinascere la vita nella divinità ragazzi siamo ad alti livelli qui è davvero fantastica ultima ultimo pezzo che come vedete Emily è modernissima scrive brevi poesie molto sintetiche con parole potenti potentissime questa donna quasi in clausura vestita come una monaca di bianco ha scritto versi immortali vi leggo l'ultimo pezzo che si intitola a un cuore a pezzi nessuno s'avvicini senza l'alto privilegio di aver sofferto abbastanza allora non si può avvicinarsi a un cuore in sofferenza se il tuo cuore stesso non ha sofferto altrettanto e questo è un concetto importantissimo che solo in poesia credo si possa dire solo con queste poesie si è la migliore in assoluto si dunque quindi non si avvicini a nessun cuore se non aver già un cuore che l'alto privilegio di aver sofferto altrettanto ecco questa è poesia secondo me tutto il resto tutto il resto non lo è però dobbiamo veramente arrivare al novecento per poter avere dei nomi validi e soprattutto delle poesie importanti delle poete importanti la cosa che mi preme dire è che l'Europa non ci riesce in Europa non si riesce ad avere poesie di così alto livello bisogna andare in America per avere delle poetesse talmente potenti da rivaleggiare con la Emily Dickinson siamo già nel novecento io vi leggerò delle delle piccole brevi poesie non sono lunghissime di Silvia Plath Silvia Plath è una poetessa incredibilmente brava che ebbe però soffrire una vita terribile come molti poeti come molti poeti hanno dovuto fare proprio quasi come se anzi sicuramente come se la sofferenza fosse una specie di setaccio in cui rimane solo le cose importanti e le cose importanti sono le cose dell'anima quindi ciò che rimane tolta la pula rimane l'oro l'oro della poesia e quindi queste queste poetesse hanno avuto delle vite molto drammatiche Silvia Plath ha sempre sofferto di problemi mentali di polarismo ebbe anche una terribile rapporto con suo marito che era anche lui un poeta Ted Hughes che però la malmenava quindi aveva delle vicende familiari molto molto drammatiche lei alla fine alla fine ha deciso di suicidarsi e questo la dice lunga sulla sulla grande sofferenza di quest'anima che però ci ha lasciato delle perle uniche vi leggo questa si intitola io sono verticale io sono verticale ma preferirei essere orizzontale non sono un albero con radici nel suolo succhiante minerali e amore materno così da poter brillare di foglie ad ogni marzo né sono la beltà di un'aiuola ultra dipinta che susciti gridi di meraviglia senza sapere che presto dovrà perdere i miei petali confronto a me un albero è immortale e la cima di un fiore non alta ma è più clamorosa dell'uno la lunga vita dell'altro mi manca l'audacia stasera nell'infinitesimo lume delle stelle alberi e fiori hanno sparso i loro freddi profumi ci passo in mezzo ma nessuno di loro ne fa caso a volte io penso che mentre dormo forse assomiglio a loro nel modo più perfetto coi miei pensieri andati in nebbia stare sdraiata è per me più naturale allora il cielo e Dio siamo in aperto colloquio e sarà utile il giorno che resto sdraiata per sempre finalmente gli alberi mi toccheranno e i fiori avranno tempo per me ecco questo diciamo che Silvia ci racconta della sua morte che poi lei sceglierà coscientemente di fare pensate una mattina si svegliò preparò il latte per i suoi figli preparò le ciambelle e poi accese il forno e ci mise la testa dentro ora nel novecento abbiamo molte scrittrici che si suicidano la famosa Virginia Woolf Sylvia Plath Anne Sexton le donne scrittrici le donne poetesse che davvero preferiscono la morte a una vita così dura così difficile quindi diciamo che per diciamo par condizio sono sempre in America voglio però dare voce a una donna che non è solo donna ma è una donna di colore ora dobbiamo pensare a come già il fatto di essere donna una donna scrittrice fosse davvero difficile ma pensate addirittura essere una donna di colore che scrive che ha il coraggio di scrivere si chiama Maya Angelou nata a St. Louis nel 1928 e morta a Salem nel 2014 quindi è nata vissuta molto a lungo ed è morta relativamente da poco questa scrittrice poetessa afroamericana è stata veramente una un'aquila che è riuscita a volare nonostante tutte le difficoltà che voi pensate bene negli Stati Uniti una donna di colore poteva avere ora Maya Angelou io vi leggerò in italiano ovviamente tradotto uno dei suoi inni più famosi ricordiamo che fu una grande sostenitrice del movimento afroamericano si battè per i diritti sia delle donne che degli uomini di colore fu ovviamente una femminista vorrei parlare un attimo di questo termine femminista ancora oggi quando lo pronunciamo questa parola il suono ci sembra negativo quasi fosse un epiteto offensivo per una persona ricordiamoci che se noi oggi se io oggi se voi oggi potete stare ad ascoltare questo e io posso parlare posso scrivere lo dobbiamo una femminista se noi possiamo votare lo dobbiamo una femminista se noi possiamo avere la libertà per quanto adesso ce la vogliano di nuovo togliere comunque la libertà minima insomma non è che una libertà totale ma è comunque un buon un buon livello di libertà lo dobbiamo alle lotte femministe il patriarcato ovviamente ha paura di questo movimento perché sa è ben consapevole che sta minando le radici su cui il patriarcato si fonda ma io dico benvenga chi scuote e farà cadere il patriarcato che è un sistema coercitivo di dominazione crudele oggi vediamo questo patriarcato che sta mostrando veramente la parte peggiore di sé che sta cercando in modo coercitivo di bloccare tutte le istanze umane tutte le diciamo la voglia di libertà delle persone la bellezza del mondo e della vita e quindi il femminismo non è altro che cercare un riequilibrio visto dal punto di vista patriarcale il femminismo sembrerebbe agli occhi di un patriarca che non può concepire altro che un mondo piramidale in cui c'è sempre il capo il vice capo eccetera che una donna voglia mettersi a capo al posto di un uomo chi pensa così non ha capito nulla perché il movimento delle donne tende al riequilibrio tende all'amore tende a poter essere pari per amarsi avere una donna l'ho sempre detto e continuerò a dirlo avere una donna al potere a un potere di tipo patriarcale di tipo gerarchico come quella che ancora oggi è l'unico che riusciamo a concepire dal punto di vista politico non cambia nulla la Merkel non è diversa la che ne so io la Thatcher non è diversa non è stata diversa dai suoi colleghi uomini perché il sistema è stato lo stesso quello invece che le donne vorrebbero è proprio cambiare il sistema cioè fare in modo che gli uomini e le donne siano paritari e possano amarsi non ci si può amare se uno è più potente dell'altro se uno ha più soldi dell'altro se uno ha più libertà dell'altro è impossibile che l'amore è tra pari l'amore è sempre tra persone pari per cui ecco che l'eguaglianza diventa importantissima e siccome voi sapete che io amo i giochi di parole vi invito a riflettere sulla differenza tra la parola l'eguaglianza e la parola uniformità l'uniformità è diabolica è bruttissima l'uniformità significa che la forma deve essere identica tutti vestiti uguali tutti a fare le marce uguali tutti a dire le stesse cose questa è l'uniformità ed è diciamo l'assassinio dell'anima è la morte dell'anima l'uguaglianza invece vuole la differenza vuole la varietà delle persone vanno bene tutte le persone ma compare dignità compare i diritti e compare i doveri quindi questa è l'uguaglianza quindi attenzione alle parole che usiamo quando noi parliamo di femminismo noi stiamo parlando di uguaglianza mi dispiace per chi ha ancora i concetti patriarcali in testa che non riesce a vedere queste differenze però sono sostanziali quindi ora vi vi leggo la poesia che poi è un inno è un inno politico di Maya Angelou questa poetessa afroamericana si intitola ancora sorgo lo dico in inglese perché è molto più bello still I rise mi potrai denigrare nella storia con odiose menzogne travisanti potrai schiacciarmi nell'etame ma ancora come polvero come polvere mi saprò levare la mia sfacciataggine ti offende perché sei così tetro perché cammino come avesse un giacimento da cui estraggo petrolio nel salotto sentite come è orgogliosa questa donna che vede la ricchezza pur camminando nel proprio salotto proprio come per la luna e per il sole con la certezza delle maree proprio come liberarsi di speranze ancora saprò risorgere tu volevi vedermi avvilita testa china e occhi bassi spalle cadenti come lacrime infiacchita da pianti disperati il mio orgoglio ti offende ma non prenderla sul tragico perché rido come avessi giacimenti d'oro nel mio cortile da scavare mi puoi sparare con le tue parole coi tuoi occhi mi puoi perforare col tuo odio puoi uccidermi ma ancora come l'aria io saprò levarmi still I rise la mia sensualità ti turba è per te una sorpresa che io danzi come se avessi dei diamanti lì dove si uniscono le cosce dalle baracche della vergogna della storia io sorgo da un passato radicato nel dolore io sorgo sono un oceano nero vasto e danzante sgorgando e gonfiandomi ho in me la marea abbandonando le notti di paura e terrore io sorgo nell'alba di un giorno meravigliosamente chiaro io sorgo con me ho i doni dei miei antenati sono sogno speranza dello schiavo and still I rise ecco anche questo vediamo vediamo la forza della poesia femminile la poesia femminile non ha niente da invidiare come potenza come sentite bene a quella maschile semplicemente che non è stata ricordata che è stata persa che è stata anzi addirittura cancellata perduta siccome per chi mi conosce un po' chi ha letto questo libro io sirena fuor d'acqua chi ha letto la mia storia sa come la poesia abbia davvero davvero vinto le tenebre in cui io ero ahimè sepolta e la poesia mi ha aiutato non a vivere cioè non a sopravvivere ma proprio a vivere a vivere alla grande il primo libro che ho scritto si intitolava l'altro centesimo del cielo ed era proprio un libro che vi faccio vedere la copertina cosa ha perso Hollywood quando ho fatto la fotomodella vedete ecco questo è un libro di poesie e di immagini di foto meravigliose che mi fecero i fotografi vedete mi fecero i fotografi allora che riempirono le pagine di tutti i giornali mi leggo la prima la prima di queste poesie che è molto forte si intitola La bilancia se su una bilancia potessi mettere tutti i sentimenti l'intelligenza la forza il coraggio il senso divino della vita e se potessi darli tutti in cambio di tre cose firmerai il contratto sull'altro piatto della bilancia le tre cose tette gambe e culo eh quindi questo per farvi capire come attraverso la poesia davvero si possono dire delle verità molto potenti molto forti un'altra poesia che invece prendo prendo dalla dalla sirena fuor d'acqua è una poesia dedicata all'amore a un uomo di cui mi ero innamorata e che mi ha spezzato il cuore ovviamente i poeti hanno sempre il cuore spezzato in qualche modo questa poesia si intitola Senza te vivrò volta passerò non capita scomparirò non penetrata morirò sprecata ecco io non voglio tediarvi oltre con le mie poesie vi dico solo una una brevissima 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 che chiude proprio il libro della sirena e forse molti di voi la conoscono perché è diventata famosa sono due piccoli versi un piccolo haiku che però diciamo è un bel gioco di parole e che purtroppo non è traducibile in altre lingue però diciamo che in italiano veramente è sificativo si intitola strani astri e dice così siamo tutti soli che è il plurale di sole bene io adesso vi chiedo se avete delle domande da fare delle delle non so se volete io vi posso ancora leggere qualcosa se altrimenti avete delle richieste delle domande delle curiosità delle così ovviamente non ho parlato di tante poetesse famose ah no volevo parlare di una che avevo anche preso una sua poesia che adesso vi voglio leggere sapete perché ve ne voglio parlare forse qualcuna di voi saprà anche conoscerà questa questa poetessa si chiama Joyce Lussu nessuno di voi la conosce era la moglie di Emilio Lussu grande grandissima politica una donna una donna molto molto diciamo eh addentro per la libertà lottato fatto delle lotte importantissime anzi contro il colonialismo e io l'ho conosciuta l'ho conosciuta venne ormai negli ultimi anni della sua vita è morta nel 98 io credo di averla conosciuta nel 96 95 venne a Ravenna e io andai a trovarla insieme a tanti altri c'erano una platea immensa e io mi ricordo questa donna gigantesca alta alta una signora anziana anche ma quello che mi stupì fu proprio l'enorme presenza anche fisica di questa persona e allora mi avvicinai e le portai due mie piccole poesie un po' come quelle che vi ho letto e lei ebbe subito così ci buttò l'occhio subito visto che erano corte e mi disse puntando il dito così proprio verso di me dicendo tu tu sei poeta e usava sempre dire poeta e non poetessa perché poeta già che questo finale in A suona come femminile poi davvero la poesia non ha sesso non ha genere la poesia è oltre è nell'anima vi leggo questa poesia della Joyce Lussu che mi sembra molto bella ciao Carla ciao si intitola La luna si è rotta la luna si è rotta in cinque pezzi che galleggiano nel cielo squalidamente come cinque cocci di scodella era una luna piena e luminosa che aveva un'aria abbastanza felice lì per lì ho creduto che i cosmonauti e i satelliti artificiali l'avessero offesa in qualche modo ma poi ho capito che era tutta colpa mia la guardavo fissamente con pensieri tristissimi e scomodi trac si è rotta in cinque pezzi quasi senza rumore certo sono i miei pensieri che l'hanno urtata in un momento in cui si sentiva particolarmente fragile questi pensieri delle donne liberate sono una cosa complicata e la luna che è tonda e semplice ci si trova male questa secondo me è bellissima di una semplicità disarmante ora le persone che non conoscono la poesia credono che la poesia sia formata da parole altisonanti da concetti filosofici no quello è tutta accademia esistono quei poeti poeti laureati come si dice ma a mio giudizio non sono affatto vera poesia la vera poesia deve avere parole semplici perché l'anima è semplice semplice e diretta questa della luna che si è rotta per me è una immagine meravigliosa che questa donna ci regala un'altra sempre della Joyce Lussu che a me piace molto che dice così chi ha detto che la vita è breve non è vero niente la vita è lunga quanto le nostre azioni generose quanto i nostri pensieri intelligenti quanto i nostri sentimenti disinteressatamente umani la vita è infinita ecco io diciamo che avrei concluso un po' diciamo il mio scursus sulla poesia femminile mi rendo conto di aver fatto proprio delle scelte estremamente personali e non certo da accademica che avrei dovuto parlarvi che ne so io di Sibilla Leramo della Grazia dell'Edda della Dacia Maraini della Alda Mirini però sono già nomi noti e siccome volevo parlarvi delle poetesse perdute delle poetesse che non hanno quasi mai avuto voce al di là di Emily Dickinson forse la più famosa tra quelle che ho nominato ma davvero sono voci di cui nessuno più ricorda l'intelligenza l'importanza sono voci voci dimenticate voci perdute che secondo me però meriterebbero davvero un nuovo un nuovo inizio una nuova primavera io mi auguro che voi le troviate in internet ci sono e le condividiate perché condividere poesia e condividere bellezza e siccome adesso ne abbiamo particolarmente bisogno abbiamo bisogno di poesia abbiamo bisogno di poeti abbiamo bisogno di cantori abbiamo bisogno di musici abbiamo bisogno di elevare le nostre frequenze animiche quindi la frequenza dell'anima è salute più sono alte le vibrazioni good vibes più sono alte le vibrazioni meno ci ammaliamo più il nostro corpo è in un incantamento d'amore quindi scrivere poesia aiuta è catartico è liberante scrivete poesia anche se nessuno ve le leggerà nessuno saprà che voi le avete scritte sappiate che la vostra anima lo sa e ve ne sarà grata e quindi ciao Marilena quindi dite voi se avete qualche curiosità qualche avevo anche preso dei versi di Saffo devo ammettere che io avevo avevo proprio preso due versi giusto giusto per ricordarla perché comunque di Saffo non si può fare a meno allora in realtà quello che vi sto per leggere è una una poesia scritta su Saffo che parla di Saffo e dice così alcuni alcuni dicono che le muse siano nove che distratti guarda qua c'è anche Saffo di Lesbo che è la decima vedete come era considerata al suo tempo altra poesia di Saffo che secondo me è molto bella dice c'è chi dice sia un esercito di cavaliere c'è chi dice sia un esercito di fanti c'è chi dice sia una flotta di navi sulla la cosa più bella io invece dico che la cosa più bella è ciò che si ama quindi come vedete l'amore è sempre un po' il motivo principale che muove i poeti muove la musica muove i cantori di amore abbiamo bisogno in particolare in questo tempo perché chi è felice non si ammala chi ama non si ammala chi è innamorato ha una marcia in più quindi io vi invito ad amare la poesia spero di avervi dato un piccolo assunto di cosa la poesia può dire può fare per l'anima umana perché non so ditemi voi avete qualche dubbio volete ancora che vi lega qualcosa oppure diciamo che i tempi sono maturi per il nostro addio però io volentieri mi fermo ancora un attimo con voi se avete piacere altrimenti dai ve ne leggo solo solo una 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 delle mie l'ultima 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 questa l'ho scritta io che si intitola la nascita quando ti scoppierà l'anima in petto urlerai di dolore maledirai la tua paura bestemmierai Dio e i santi odierai tutti gli umani griderai le tue lacerazioni e piangerai il tuo inganno nascerai finalmente uomo bene con ciò io vi ringrazio dell'attenzione vi saluto e vi farò sapere il prossimo appuntamento quando sarà e di che cosa parleremo ancora è tutta una sorpresa quindi io vi ringrazio molto dell'attenzione e vi vi do appuntamento al mese di luglio perché voi sapete che questo è un appuntamento mensile quindi la data non l'abbiamo ancora scelta ma insomma sarà verso metà del mese e quindi ci ritroveremo con un altro argomento se avete anche piacere che io tratti in particolare qualcosa non avete altro che da scrivermi in privato su messenger su facebook e così vedremo di accontentare eventualmente chi fosse interessato a particolari argomenti bene io con ciò vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione e ci sentiamo presto e intanto se siete in vacanza buone vacanze se ci dovete andare ancora buone vacanze e siccome siamo sicuramente non di rientro quindi buone vacanze grazie arrivederci a tutti arrivederci a tutti l'indirio a tutti che